tra queste anche la mia, volto a dare una minima cifra di regolamentazione ad un fenomeno che oggi riceve un'attenzione giuridica minore di quella che viene riservata ad un'associazione sportiva che abbia al centro dei suoi interessi il gioco delle bocce. Solo che il partito non è una bocciofila, ma il decisore dei destini del Paese. Non so con quanta consapevolezza noi lo stiamo facendo, ma quest'Aula sta ripercorrendo i temi che Mortati e i suoi colleghi misero in campo alla Costituente. Concludere in modo positivo il lavoro cominciato dai Costituenti sarebbe allora un bel modo di celebrare il settantessimo di quella storica Assemblea. Grazie. Grazie, onorevole Lauricella. Grazie, Presidente. Il testo della proposta di legge che stiamo discutendo e che andremo ad approvare, ben illustrato ora dal relatore, ha incontrato un percorso sostanzialmente senza particolari ostacoli in Commissione, sia per la disponibilità e ragionamento da parte di tutti i gruppi, sia grazie al contenuto del testo base su cui si è discusso. Ovviamente è in Commissione, perché già in Aula vediamo reazioni di tipo diverso. Possiamo dire anzi che la disponibilità a ragionamento è frutto di un testo base che fin dalla sua presentazione ha rivelato la sua finalità circoscritta al tema della trasparenza anche con riguardo alla organizzazione e alla gestione dei partiti o comunque dei gruppi politici che intendano partecipare alla vita politica e istituzionale. Ciò fin dalla composizione e presentazione delle liste elettorali per la partecipazione alle elezioni nazionali. In definitiva, il testo presentato ed esaminato in Commissione Affari Costituzionali ha, che non è un unicum, ma si aggiunge a tutte le altre garanzie e tutela già vigenti nel nostro ordinamento, ha evitato forzature giuridiche e peraltro verso politiche che non solo non avrebbero a ragione trovato la disponibilità di cui si è detto prima, ma avrebbe subito prima o poi il giudizio negativo della Corte Costituzionale. Abbiamo opportunamente evitato di introdurre norme che riconoscessero la personalità giuridica ai partiti, lasciandoli quali associazioni non riconosciute con le conseguenti responsabilità civili, penali e contabile finanziarie in capo a chi agisce in nome e per conto del partito. Risponde il soggetto responsabile e non il partito in maniera indefinita, esattamente sotto tale profilo come era stato pensato e concepito fin dall'origine del sistema repubblicano, scongiurando quel tipo di modificazione che avrebbe condotto a non ben prevedibili conseguenze lesive dell'autonomia, che è sempre stata opportunamente garantita ai partiti e alle organizzazioni politiche in generale, in ossequio indirettamente anche al principio della separazione. D'altro canto, mi rivolgo all'onorevole Quaranta anche, rimango convinto che rispetto al quadro costituzionale e alla natura che deve essere mantenuta alle formazioni politiche, il legislatore ha dei limiti entro i quali possa intervenire, ma oltre i quali finirebbe o avremmo finito con il comprimerne l'autonomia. Nella fase costituente furono respinte tutte le forme di controllo sui partiti che potessero riguardare persino l'ideologia, ma anche l'organizzazione interna o i programmi. Nel nostro testo viene prevista una sorta di tratto identificativo, definibile anche attraverso la dichiarazione di quei minimi elementi essenziali richiesti, senza comunque dettare modelli standard o chiusi, sia in ordine all'organizzazione, sia in ordine ai modi di scelta delle candidature. Ed è importante, per questo è più penetrante, il dato sul finanziamento attraverso l'estensione dei margini di pubblicizzazione, aspetto che si impone a maggior ragione oggi, essendo venuto meno il finanziamento pubblico. Ma soprattutto abbiamo evitato di porre incomprensibili, oltre che certamente illegittime, forme di limitazione alla partecipazione politica e democratica. Va bene l'iscrizione al registro dei partiti, ma diviene sufficiente, al fine del livello minimo di trasparenza, la presentazione di uno statuto o di una dichiarazione con definiti criteri essenziali. Un valore andava salvaguardato e credo di esserci riusciti. Pur nella definizione dei termini di trasparenza, abbiamo evitato meccanismi di interferenza esterna rispetto alla sfera politico-parlamentare. In tal modo abbiamo rispettato il dettato dell'articolo 49 della Costituzione, che altrimenti avrebbe subito un'attuazione probabilmente illegittima. Conseguentemente non si comprendono le posizioni che alcune parti politiche hanno assunto e presumibilmente assumeranno in aule, e ne abbiamo già avuto qualche assaggio, nei confronti di specifici aspetti del testo che discutiamo, se non nel senso del sentimento di opposizione fino a se stessa, o magari nel senso di indurre ad una mancata approvazione di qualsiasi forma di attuazione dell'articolo 49 della Costituzione. Fin dall'inizio del dibattito in Commissione, anzi ancora prima, il gruppo del Partito Democratico, anche grazie al lavoro prodotto dal relatore onorevole Enrichetti, ha avuto la forza, il buonsenso di circoscrivere la proposta nell'ambito e nella razio del dettato costituzionale, superando proposte che avrebbero reso complicato e per altro verso di dubbio legittimità la soluzione. È importante sottolinearlo, anche alla luce di alcuni tentativi cui abbiamo assistito in Commissione, di restringere gli spazi di autonomia dei partiti o dei gruppi politici che intendono e intenderanno partecipare alla vita politica e istituzionale determinandone le scelte. Certamente ho avuto modo di dichiararlo in Commissione, se il testo avesse accolto misure limitative del diritto di tutti a partecipare, mi sarei opposto in modo assoluto anche qui in sede di approvazione. Sarebbe stato inaccettabile per chi si sarebbe aggiunto al sistema di finanziamento privato ai partiti. Ho già espresso in passato la mia contrarietà all'eliminazione del finanziamento pubblico ai partiti che reputo un vulnus al principio democratico e soprattutto all'esigenza di garantire la partecipazione civile e politica alle minoranze. Sarebbe stato giusto ridimensionarlo drasticamente e regolarne la gestione, ma è stato sbagliato eliminarlo. Spero che questo Governo e questa maggioranza abbiano il coraggio e la forza per rivedere il tema in termini pluralistici e in linea con quanto stiamo approvando oggi, evitando di lasciare un sistema di finanziamento affidato soltanto al privato con tutte le conseguenze che già oggi si manifestano. Altra cosa è invece affermare e intensificare le forme e gli strumenti di partecipazione e di controllo della vita dei partiti, nonché del metodo di finanziamento di cui possono godere. In una parola, la trasparenza. Mi sembra che tale obiettivo sia stato raggiunto, con norme definite e chiare, capaci di rendere accessibili e pubblici tutti i passaggi e i modi di partecipazione dei soggetti politici. Dalla presentazione delle liste elettorali alla gestione politica, amministrativa e contabile. Insomma, abbiamo rispettato il diritto di associarsi liberamente in partiti o altra forma per concorrere con metodo democratico a determinare la politica nazionale. Lo abbiamo fatto non limitando l'accesso, ma imponendo la trasparenza, la quale serve poi anche a garantire il metodo democratico. Anche attraverso tali regoli e tali strumenti si può porre un'argine alla corruzione e restituire una più ampia credibilità alla politica, anche non sottovalutando l'aspetto della qualità delle liste elettorali. Un criterio che va esteso a livello periferico. È un tassello di un mosaico che dobbiamo comporre se vogliamo che anche oltre noi stessi la politica e i partiti tornino ad avere la legittimazione del cambiamento in quanto vero tramite tra le istituzioni e i cittadini. Soltanto a quel punto riusciremo a riportare i cittadini a partecipare credendoci. Grazie. Grazie Presidente. Innanzitutto consentitemi di dire che nell'esame del provvedimento abbiamo avuto la conferma di quanto sia importante confrontarsi in Commissione ed esaminare i provvedimenti nell'ambito del dibattito parlamentare. Anche se vale a tutti i livelli istituzionali, qui alla Camera ci siamo spesso trovati davanti a testi blindati, a decreti macedonia e all'abuso dello strumento della fiducia. Quando ci confrontiamo in Commissione e in Aula diamo sicuramente più senso ai provvedimenti che approviamo e riusciamo anche ad evitare derive pericolose. Del resto siamo anche lautamente pagati per fare questo lavoro e questa è una cosa da rispettare, anche perché poi i risultati, come in questo caso, evidentemente sono migliori. Sappiamo che l'Italia attende da anni una legge sul funzionamento dei partiti e in parte comprendiamo...